Ciao, allora oggi rispondo a un tag, un tag autunnale, come sottrarsi a questo piacere, anzi ringrazio Cristiana del canale Cristi74 che ha pensato a me e appunto mi ha taggata, quindi ciao Cristiana, rispondo con piacere. Il tag però è stato ideato e inventato da Laura del canale Laura Online, tutta community per la maggior parte focalizzata nell'ambito delle fragranze, per chi appunto non seguisse questo tipo di canali, però se volete approfondire l'ambito delle fragranze andate a seguirle perché ne sanno molto più di me, sono molto più veterane rispetto a me. Ok, abbiamo gusti molto diversi, però insomma è sempre bello spaziare. Allora rispondo a queste domande, chiaramente il tema è l'autunno, quindi parto subito così cerco di non fare un video stra 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 lungo, anche se è un'opportunità per chiacchierare. Allora, prima domanda, candela preferita si deduce appunto durante l'autunno? Allora, io ho visto tantissime ragazze, la maggior parte che hanno parlato appunto delle Yankee Candle. Allora, io sono una fan delle tart che però non ho perché vi confesso, io ho traslocato dieci, nove mesi fa e ho ancora degli scatoloni da aprire, quindi probabilmente le mie tart, quelle tonde che si spezzano e poi si mettono le bruciessenze saranno probabilmente seppolte in qualche scatolone che io ancora non ho aperto. Quindi, e non mi piacciono le Yankee Candle, in genere non mi piacciono, ho preso delle grandi cantonate con le Yankee Candle in vasetto, cioè io ho speso un sacco di soldi, veramente ci sono cascata due volte e non ho mai avuto quella sensazione, non mi hanno mai appagata, un leggero odorino, ma insomma niente a che vedere con le tart. Quindi, ho scoperto lo scorso inverno le candele di Pepco. Pepco è una catena che in Friuli, Venezia e Giulia ha diversi punti vendita, non so se anche nelle altre parti d'Italia, comunque io ve ne parlo. Io ho ad esempio questa candela, tra l'altro alla soia, tappo in legno, quindi una certa attenzione ai dettagli, che riesce a profumare tutta la casa, cioè io la tengo qui, nello studio appunto dove lavoro e si sente fino all'ingresso, quindi dà un'enorme soddisfazione, ma soprattutto dà un'enorme soddisfazione al prezzo di 5 euro. Quindi voglio dire, candele così grosse, tre stoppini, che durano così tanto, soprattutto che profumano, lode, 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 lode. Le ho provate un po' di tutte le profumazioni, questa mi sembra che sia, non c'è più l'etichetta, però è un agrumato legnoso, quindi molto piacevole, altrimenti ne ho anche una al, questa è un'altra linea, sempre di Pepco. Sono anche gradevoli, molto carine, anche questa costa 5 euro, ha il marshmallow, tra l'altro questa la devo ancora aprire, eccola qua, e ha un buonissimo, buonissimo profumo e soprattutto un buonissimo rapporto qualità-prezzo. Ho provato anche, qualche mese fa, quelle di Aldi, o Aldi, supermercato chiaramente di scantolo, cost, che vanno un po' a emulare, io credo, quelle di Jomalon, emulano fragranze di Jomalon, molto valide anche quelle. Se trovate candele di quel tipo, quindi grandi così, da Aldi, date una chance, perché io sono rimasta molto soddisfatta. Poi, seconda domanda, rossetto preferito? Rossetto preferito? Devo dire che il mio rossetto preferito in assoluto, per texture, prestazione, parlo di rossetto, non tinta labbra, quindi lipstick premoso, sì, cremoso, è quello di Huda Beauty, e io ce l'ho nella colorazione, graduation day, che è questo qui, che ho abbandonato per tutta l'estate, perché è un nude scuro, sulle mie labbra neanche troppo, perché avendo le labbra scure, insomma, non è effetto mortissima, quindi molto gradevole, texture morbida, buonissima pigmentazione, ottima durata, ben formulato, l'ho dovuto, l'ho abbandonato durante l'estate, perché insomma, cozzava un po' col mio colorito estivo, e non vedo l'ora, insomma, di rimetterlo in utilizzo, non questo mese, perché avete visto il mio make-up nel cassetto di ottobre, quindi non l'ho inserito, quindi resisto ancora un po', e mi piacerebbe comprarlo, comprarlo in altre tonalità, però tutte le volte che vado da Sephora, non c'è il tester della colorazione che interessa a me, e quindi ciccia. Poi, blush preferito, l'ho portato, ma non ho un blush preferito, perché io non sono una patita dei blush, ad ogni modo, quelli che io promuovo sempre, mi ci trovo bene, ottimo rapporto qualità-prezzo, ottima durata, sono quelli di Kiko, tipo questo è quello che sto utilizzando in questo momento, ed è della Unexpected Paradise, e quelli di Kiko a me danno un sacco di soddisfazione, quindi diciamo che il blush non è un prodotto sul quale mi sento di investire, ecco, mi trovo benissimo con questi, li prendo quando sono in offerta, 5-6 euro, ottime colorazioni, e in questo periodo, insomma, sono tornata un po' sulla colorazione naturale, anche perché io in genere carico di bronzer, il bronzer per me è molto più importante del blush, quindi potrei vivere senza blush, ma non senza bronzer, se dovessi scegliere, in tutte le stagioni, questo è il mio mood 4 stagioni. Poi, profumo da giù, no, smalto preferito, allora, questo è uno smalto che è arancione, arancio zucca, voi lo vedete forse più flesciante, però quando lo, è un arancione, sì che è un bel arancione, però è un arancio zucca, non c'è altro modo per descriverlo, questa è la seconda boccetta che io compro, fa parte della linea che io, tra l'altro lo smalto si chiama Lorangerie, ed è il numero 443, sì, ve l'ho messo storto, voi lo vedete storto, ma io devo risolvere questa cosa, ed è della, ed è della, della, della linea Colorish smalti ad olio di L'Oreal, ve ne ho parlato nel mio video degli smalti, sono i miei smalti preferiti, ineguagliabili, proprio lassù, nell'Olimpo, andati fuori produzione, si trova ancora qualche pezzo in giro, se li vedete, io mi sento veramente di mettere la mano sul fuoco, io li adoro, e questa colorazione qua fa proprio autunno, a me piace tanto, anzi, quando tolgo questo violaceo, sicuramente andrò, andrò con un colore di questo tipo, perché poi mi mette allegria, ma non è un arancione troppo spinto, io vedo che è molto, non è un arancione neon, è proprio un arancio zucca, che ci sta, non è troppo, vabbè, io insomma, sono una creativa, quindi c'è, vabbè, oggi sono bianca e nera, quindi sono la tristezza fatta persona, però mi piace usare in questo senso, lo smalto per me non è un problema, anzi, mi deve divertire. Profumo da giorno e profumo da sera? Allora, io non, io tendo a non, anzi, non divido mai, non segmento mai profumi da giorno e profumi da sera, perché altrimenti dovrei utilizzare solo profumi lievi, soavi, delicati, perché io sono in smart working, quindi se ho voglia di mettermi una bombazza, aia, mi è entrato qualcosa nell'occhio, ma perché quando registro mi è entrato un pelo nell'occhio? Allora, io, cioè, sono libera in smart working di mettermi una bombazza anche alle 9 di mattina, perché tanto attorno a me non c'è nessuno, ok? Ma in realtà non ce la faccio, perché io non riesco a mettere il mio profumo in genere prima delle 10, 10 e mezza, cioè così, nelle prime ore del mattino, che per me 9, 9 e mezza sono ancora le prime ore, mettermi il profumo mi dà un po' de che. Quindi non ho questa suddivisione tra profumo giorno e profumo sera. I due che mi attraggono di più in questo periodo, comunque ve li cito a rappresentanza della categoria, sicuramente a me in questo periodo, autunno-inverno, mi viene la voglia di agrumi, perché gli agrumi sono comunque un frutto autunnale, invernale, e il mio amato zagara di Mono Team, eccolo qua, che è comunque un tripudio di arancio amaro e fiori d'arancio amaro, è qualcosa che... Occhio all'acquolina, no, io non gli resisto, questo profumo io non resisto. Cioè mi viene l'acquolina e poi mi piace tantissimo, perché sulla mia pelle e anche sui vestiti ha un'ottima persistenza, mi piace da impazzire. Quindi se devo scegliere un agrumato, per me è un 4 stagioni, ma il periodo in cui me lo godo di più è proprio autunno-inverno. Io adoro, adoro questa... Adoro, perché comunque poi per me è goloso. Ad esempio, una vaniglia non mi fa venire assolutamente l'acquolina. Cioè quando sento un'acquolina in bocca, quando sento un vanigliato, quando sento un gourmand, difficilmente mi viene quella voglia di dolce, quella voglia di... no, quell'acquolina in bocca, Dio che buono. Quando io annuso questo, mi viene l'acquolina. Perché come mi seduce la frutta? Non mi seduce niente, non c'è niente da fare. Io sto capendo che i fruttati... Ecco, io ai fruttati non resisto. Ai fruttati non resisto. Questa è una dottolette, ma ripeto, ha un'ottima persistenza. Poi, per quanto riguarda invece uno zuccherino, un gourmand vaniglione, che in realtà è un ambrato floreale, vi faccio vedere questa mini taglia di Montal, ed è la profumazione Crazy in Love. Io ho qui stato appunto questa mini taglia. Meno male, perché comunque anche una mini taglia di Montal ti dura anni e anni e anni. Io lo sto indossando stamattina, ho messo tre spruzzi, e voglio dire, è forse uno di quelli che impesta di meno tra i Montal, perdonatemi impesta, cioè è uno di quelli che poi ti permette il giorno dopo di indossare altro, quindi lo metto giù perché sennò fa troppo casino, e quindi va d'accordo con me, mi lascia libera domani di scegliere un'altra tipologia di profumo, ciò non toglie che dura tranquillamente tutta la giornata, e ha, sì, una rosa, a me non piace la rosa dei profumi, ma è una rosa soffocata, diciamo così, dallo zafferano, dallo zucchero di canna, e... che cos'ha ancora? Mi è partito il tappeto! No! Ok, ok, tutto ok, ce l'abbiamo, ed è appunto da un... mi sembra che abbia un baccello di vaniglia, non proprio vaniglia questo, è un vanigliato, è un fiorito vanigliato, quindi ha quella botta di fresco iniziale, data dalla rosa, però non è una rosa troppo, no? quel fresco, quella rosa un po' smorfiosetta, che a me dà fastidio, è fresco inizialmente, grazie alla rosa, dopodiché diventa appunto un ambrato, ecco in base a baccello di vaniglia ed ambra, un ambrato che comunque lo scalda, è un... ti dà quella dolcezza, che non è too much per l'autunno, ed è portabile anche durante il giorno, quindi... questo è. Poi, vediamo, che ovviamente mi sono persa un botto sui profumi, borsa preferita, allora, borsa preferita autunnale, non credo di averla, io ho la borsa preferita della vita, la borsa dalla quale io non mi riesco a staccare in nessuna stagione dell'anno, ed è questa di Michael Kors, io adoro il marrone, proprio, io quando, ve l'ho già detto, io quando vedo marrone, non resisto, ed è per comodità, capienza, possibilità di abbinamento, abbinamento, praticità, è la, proprio la, questa si chiama Gabri, questa borsa qua, io la adoro, acquistata a New York, in un punto verito a TJ Maxx, a un prezzone, perché sono dei, TJ Maxx è una sorta di outlet, in cui trovate anche robe, robe, sì, cose brandizzate, a prezzoni, quindi non potevo lasciarla là, e oltre ad essere un bellissimo ricordo del mio viaggio a New York, è anche la borsa che utilizzo di più in assoluto, in tutte le stagioni, addirittura io la sera se esco, non ho, non ho voglia di cambiare borsa, non sono lì, ah, molto spesso, poi vado di fretta, io l'abbino su tutto, voi direte, è una borsa troppo grande per la sera, ma, voglio dire, io non è che quando esca la sera, mi metta l'abito lungo, i tacchi a spilo, sono sempre piuttosto, sporty girl, quindi va benissimo, e poi dentro ci butto, ci butto la qualunque, infatti non l'avrò, perché è l'immondezzaio, quindi però, è proprio la mia borsa del cuore, film preferito, allora, prima mi era venuto in mente un film, che ci ho pensato, adesso non mi è più, perché non mi scrivo le cose, l'età ormai, ah sì, beh, il film preferito, quello che, è da qualche giorno, che mi voglio riguardare, per l'ennesima volta, è Mangia, prega, ama, con Giulia Roberts, che filmone, filmone, è un paccone lunghissimo, mi sembra che sia, due, tre ore di film, però, tutti questi, allora, ha delle note estive, no, perché ci sono dei paesaggi, mi sembra, in Thailandia, Bangkok, giù di là, da quelle parti, che ti richiamano l'estate, però poi, ha anche, una sorta di, malinconia interiore, perché comunque, parla del viaggio interiore, che fa questa donna, no, interpretata da Giulia Roberts, anche il libro, non l'ho letto, non so se sia meglio il libro, o il film, io ho visto solo il film, ma mi piace molto, perché ha quella leggerezza, e quell'introspezione, che io inizio a ricercare, che per me, insomma, rappresentano anche l'autunno, e l'inverno, no, mi piacciono come stagioni, perché io, anche se sono così, cacciarona, sono una persona, forse fin troppo introspettiva, e quindi, tutte queste cose, che mi aiutano, mi stimolano, mi danno dei, dei là, per intraprendere, delle riflessioni, che poi, mi portano, magari anche, dei cambiamenti, nella mia vita, non vedendo quel film, ma degli spunti, che possono essere utili, nella mia vita reale, tutto ciò, sia sotto forma di libro, che di film, mi attrae, quindi, mangia prega ama, serie preferita, allora, inutile negarlo, io, da qualche giorno, sto rivedendo, per la terza volta, mentre lavoro, la metto la, quindi, sapete che io, ho bisogno di sentire, qualcuno parlare, una mamma per amica, si lo ammetto, sono la banalità, fatta a persona, però, per la terza volta, lei sta andando, poi, serie preferita, sicuramente, Downton Abbey, quando finirò, una mamma per amica, rivedrò, per un'altra volta, Downton Abbey, perché è qualcosa, che mi, che mi folgora, che mi piace, che mi appassiona, tutto ciò, che parla, un po', dell'Inghilterra, del 1800, primi 1900, qualcosa, che mi piace da impazzire, non mi spiego, il perché, però, sicuramente, tornerò, a Downton Abbey, e poi, un'altra serie, che mi, probabilmente, rivedrò, è New Amsterdam, mi piace da morire, qua siamo in ambito medico, però, i personaggi, mi piacciono un sacco, mi piace come sono approfonditi, mi piace la storia, mi piace l'evoluzione, non so, se uscirà, forse, prossimamente, la prossima stagione, io le ho visse tutte, però, potrei fare un refresh, però, voglio dire, autunno, autunno, è una mamma per amica, è Downton Abbey, canzone preferita, allora, anche qua, banalità fatta persona, io sto, allora, dato che nel panorama, musicale, attuale, ma anche negli ultimi dieci anni, io non trovo niente de che, lo so, sarò, una mosca bianca, non trovo, niente de che, torno indietro, con gli anni, e io in questi giorni, mi sto ascoltando, una cara, amata, intramontabile, Whitney Houston, quindi, da, I wanna dance with somebody, degli anni 80, che ascolto, mentre mi faccio la doccia, e canto a squarciagola, ha, le sue, run to you, I will always love you, e chi più ne ha, più ne metta, quindi, la Whitney Houston, sono negli anni 80, 90, sì, sono molto vintage, lo ammetto, ma io, del resto, 46 anni, sono vintage, magari non sono ancora, troppo vintage, ma, mi avvicino, sulla strada del vintage, quindi sì, ascolto lei, sono banale, però mi piace, basta, anche oggi, non ce l'ho fatta, 17 minuti di video, chi taggo, dove sono, non ci avevo pensato, allora, taggo, pink ele 92, la mia, corregionale, che anche lei, è un canale di fragranze, però, insomma, siamo tutti curiosi, di sapere, che cosa ne pensa, a riguardo, è il canale, di Perfections, ok, queste mani, che accarezzano, lei inquadra, solo le sue mani, mentre parla, delle fragranze, però, insomma, mi piacerebbe conoscerla, anche da altri punti di vista, quindi, taggo anche te, Rita Forero, visto che l'ha già fatto, Cristiana l'ha già fatto, per ora, taggo loro due, e poi, chi vuole accodarsi, ben venga, perché da resto, non bisogna aspettare, di essere taggate, per fare un tag, il tag è bello, perché è aperto a tutti, io vi mando un bacione, e ci vediamo alla prossima, ciao!